Allora, abbiamo visto come accedere a Classroom e come creare le nostre classi. Vediamo adesso come fare i colloqui con i genitori. Il metodo, secondo me, più comodo può essere appunto creare un'ulteriore classe a parte e inserire i genitori di volta in volta prenotati all'interno della classe. Questo ci consente di evitare che magari i genitori non prenotati e quindi accedano comunque alla riunione il giorno dei colloqui. Quindi che facciamo? Clicchiamo sempre sul tasto più in basso e aggiungiamo, creiamo un nuovo corso, creiamo una nuova classe. Aggiungiamo, quindi crea un corso. Lo chiamiamo colloqui di tecnologia. Insomma, gli diamo un nome e facciamo crea. Attendiamo qualche minuto. Ecco, e ci viene generata la nuova classe. Quindi all'interno dei nostri corsi avremo i nostri corsi con gli studenti e un'altra classe chiamata colloqui di tecnologia. Quindi apriamo la nostra classe virtuale colloqui di tecnologia e che facciamo? Di volta in volta, il giorno dei colloqui, aggiungeremo alla nostra classe i genitori, o al meglio i nomi dei figli, dei genitori che vogliono parlare con noi. E che facciamo? Di volta in volta, il giorno dei colloqui, aggiungeremo alla nostra classe i genitori, o al meglio i nomi dei figli, dei genitori che vogliono parlare con noi. Quindi andiamo su persone, ipotizziamo che il papà di Mario Rossi vuole parlare con noi, allora andiamo a fare aggiungi, metteremo il nome e cognome dell'alunno, quindi Mario Rossi, seguito sempre da chiocciolaistitutolipani.com. Benissimo, andiamo avanti, clicchiamo oppure schiacciamo su invio e facciamo invita. Vedete, Mario Rossi è stato invitato, per cui l'ho inserito all'interno della classe. Ci sono altri prenotati, se abbiamo tre o quattro prenotati quel giorno aggiungeremo, cliccando sempre accanto a studenti sul segno colomino col più, aggiungeremo altri, sempre nome e cognome, chiocciolaistitutolipani.com. Però, insomma, ipotizziamo che io questo giorno ho un colloquio solamente col papà di Mario Rossi. Quindi una volta inserito, ritorno nella mia classe, colloqui. Allora, normalmente dovrebbe apparire in alto una telecamerina, o sulla schermata, se la usiamo da PC, da computer, appare comunque sotto la scritta colloqui di tecnologia. Se non dovesse apparire, andiamo su impostazioni, questa rotellina in alto a destra, andiamo a cliccare su un link alla riunione video, genera link alla riunione. Ok, quindi questo sarà il link, sempre uguale, della nostra classe virtuale, quindi della nostra classe di colloqui. Mettiamo visibile agli studenti, chiudiamo, salva. Vedete, adesso è apparsi in alto il simbolo, in alto a destra, il simbolo della nostra telecamerina. Quindi, pochi 5 minuti, 3 minuti, 2 minuti prima del colloquio col genitore, che facciamo? Andiamo a cliccare sulla telecamerina. Si aprirà in automatico il nuovo programma, che è Meet. Vedete? E appare la nostra faccia, il microfono, quindi vediamo che sia tutto a posto e facciamo Partecipa. e quindi entriamo nella nostra aula virtuale e attendiamo l'arrivo del genitore. Il genitore non dovrà fare altro, una volta entrato con Classroom, che cliccare sulla telecamerina e potrà colloquiare insieme a noi. Grazie. 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 Grazie.